Buone notizie per la RDB. Ci sarà tempo fino al 30 aprile per presentare le offerte per l'acquisizione della SPA e delle terre cotte di Cadeo Borgonovo. I sindacati, oggi al vertice sindacale al Ministero dello Sviluppo Economico, hanno chiesto che, visti i tempi stretti, sia prorogata la procedura di amministrazione straordinaria, in scadenza alla fine di maggio, per consentire una valutazione più serena delle offerte. In queste settimane sono state presentate diverse manifestazioni di interesse per la SPA, una per le terre cotte. Il fatturato dei primi mesi dell'anno, pari a oltre 6 milioni di euro, è raddoppiato rispetto ai primi mesi del 2013. Continua invece la protesta dei 57 dipendenti della Sandvik di Crocetta di San Polo. Chi da mercoledì scorso combatte sui cancelli del quartiere produttivo e non ha retra di un passo, resta lì, vicino alle croci blu piantate venerdì per protesta, chiedendosi come sia possibile che un'azienda con un fatturato di 10 milioni di euro annui chiuda da un giorno all'altro. I lavoratori confidano ora solo nella visita del sottosegretario Roberto Reggi, prevista per domani mattina, e raccontano come ogni giorno continuino ad arrivare ordini nello stabilimento e lettere di solidarietà dagli stessi clienti.